PIGS come acronimo di Portogallo, Italia, Irlanda e Spagna. Ma PIGS è anche un acronimo che in lingua inglese significa paesi spazzatura, ovvero i paesi dell'Unione Europea, che non sono virtuosi e troppo indebitati per essere delle nazioni modello per quanto riguarda i conti pubblici e l'economia. PIGS è anche il titolo di un docufilm che in questi giorni, dal 27 al 29 aprile, era in programma al Cinema Pollo per dare una versione diversa dei fatti che stanno alla base della crisi che ha colpito l'Europa e i paesi come l'Italia. Una versione portata avanti per la nostra città dal gruppo GECOFE, ovvero il gruppo Economia di Ferrara. Ieri sera, all'Apollo, prima della proiezione del docufilm, infatti il regista Federico Greco e il giornalista indipendente Paolo Barnard, uno degli interpreti del film Denuncia, hanno voluto spiegare che cosa sta succedendo a livello internazionale. Ci hanno convinti che gli stati, i sistemi monetari, le banche, sono nemici, quando invece gli stati, i sistemi monetari e le banche, se sappiamo come farli funzionare, sono nostri amici. Per stare tutti quanti meglio dunque, sostiene il docufilm che parte dalla storia di una cooperativa che lavorava nel sociale, ma che poi, per colpa della mancanza di credito, ha dovuto chiudere attraverso interventi di Noam Chomsky, Yanis Varoufakis ed Harry De Luca, oltre ad altri studiosi di caratura internazionale, prova a dire che gli stati devono tornare, come Stati Uniti, Cina, Giappone e Svezia, a stampare moneta affinché si torni a stare bene tutti. Questo film parla dell'eurozona, l'Italia deve tornare alla propria moneta, quindi è il finanziatore di prima istanza con la propria moneta, quando tutti siamo occupati, quando tutti abbiamo i servizi essenziali, le banche diventano il creditore di seconda istanza. Cioè tu vuoi avere un surplus, vuoi avere un optional, ti rivolge alle banche. E se qualcuno pensa che chi porta avanti questa idea sia un anti-europeista, il gruppo Economia di Ferrara risponde così. Ci siamo sempre resi conto a un certo punto, nel 2010, che spegnevamo le fiamme al terzo piano, quindi risolvavamo dei problemi di emergenza, ma non capivamo da dove scoppiasse l'incendio. Ci siamo resi conto che uno dei punti da cui scoppia l'incendio è proprio la moneta e il debito. Per cui no, non ci fa paura essere chiamati anti-europeisti, perché noi cerchiamo di essere dalla parte nostra e dalla parte delle persone più vulnerabili. E abbiamo scoperto che esiste un'economia che lavora per il 100% dell'umanità, partendo dalle persone più deboli.